ciao allora fatto shopping e vi mostro subito scontrino alla mano che cosa ho preso questa è una telecamera di fortuna quindi spero che comunque si vedano le cose dato che non devo far vedere grosse qualità allora partiamo con tiger ecco qua allora tiger ho preso vabbè intanto il volantino e poi ho preso varie cose che se trovo lo scontrino scontrino alla mano vi faccio vedere tutto prima cosa che ho preso e mi serviva rastrello per il giardinaggio quello grande è più comodo sicuramente ma questo quando soprattutto sei incastrata tra una pianta e l'altra avevo detto che lo prendevo e l'ho preso e questo qui anche in acciaio quindi 3 euro poi andiamo avanti ho preso la solita vi faccio vediamo il prezzo esatto soliti stick per la colla a caldo ottimi fantastici otto pezzi e va benissimo 2 euro e quindi un buon prezzo poi questa che è la super slim super glue ok questa è una colla che tanto di istruzioni è un attacca che comunque sia e funziona per quello che la confezione è un 3 ml e viene un euro sì esatto poi cestino da questo la voglio attaccare nella doccia perché io non ho ho la vasca quindi non ho niente da appoggiare e quindi voglio attaccare questo che ci metto detto shampoo balsamo e bagno schiuma perché se no mi cade sempre tutto è una cosa tremenda questo era anche carino e l'ho pagato 3 euro 3 euro quindi mi sembra metallo oltretutto ultima chicca che è la cosa che ho pagato di più cestino della spesa ma questo è carinissimo fatto così ok e 4 euro e pensavo di metterci i prodotti quando faccio i top e flop o i bite del periodo perché più che farli vedere così questo è carino anche da vedere 4 euro e questi erano tutti quelli di taglia poi andiamo avanti il nostro bottega verde eccola qua allora scontrino alla mano vediamo cosa c'è dentro un sacco di roba allora cartolina con varie offerte catalogo sempre utile poi super offerta fedeltà tutto a 4 99 tra le varie cose da scegliere a 4 99 scadono il primo luglio campioncini campioncine della crema dopo sole per pelli sensibili estati di bellezza crema fresca idratante per pelli normali profumo e le toilette gesso mino notturno è fantastico questo l'ho già provato e crema solare abbronzatura intensa sublime protezione media spf 15 questa poi veniamo a cosa ho comprato allora intanto la borsa che lei mi ha dato tranquillamente non mi ha chiesto se la volevo mi ha messo la borsa con tutto quanto dentro ho scoperto che costava 5 centesimi io di borsa in borsetta ne ho sempre se me lo dicevi usavo le mie va bene poi prima cosa che ho preso è questo shampoo purificante leggerezza lunga durata mela verde e lime per capelli normali tendenti a ingrassarsi questo qui lo voglio provare perché è della nuova linea era in offerta costava 12,99 ho sbagliato costava 7,99 ma io l'ho pagato 3,99 poi io questi li adoro questo è il profumo d'adorante al peperosa peperosa io lo amo questo è un 125 ml è fantastico sia da applicare addosso sui capelli ma anche sul bucato prima di metterlo via cioè è un tutto proprio comunque il profumo si sente e fa sono fantastici e vanno bene anche in estate questa peperosa veniva 12,99 ma io l'ho pagato 5,99 e poi ho preso un profumo più estivo sempre della profumo d'odorante limone agrumi anche questo è molto buono sempre 12,99 ma c'è lo sconto quindi io l'ho pagato 5,99 ok quindi tutto io avrei pagato scontrino alla mano 16,02 ma mi era arrivato un sms dove acquistando 15 euro avevo in omaggio 10 euro quindi alla fine 10 euro di omaggio io ho pagato tutto 6,02 e quindi dico e vai ultimi prodotti che vi faccio vedere questa è il libro she ok allora sempre scontrino alla mano vediamo intanto gli omaggi primo omaggio questa pochette carina anche metterci dentro le cose vanno sempre bene questa pochette e poi è anche abbastanza grossa altro omaggio quella cartolina da negozio è il la mini taglia del mascara sexy pulp e anche questo fantastico mascara che io adoro poi vediamo i campioncini campioncini del profumo o tutti e due profumi solixir palpon che mi piace un sacco e il naturel osmantus non ho mai provato vi saprò dire veniamo agli acquisti allora tutti i prodotti che io amo e ho già provato questo è il siero della stebo vegetale è siero e restringipori per me in estate è meraviglioso perché è l'unico che riesco a usare e non va a ungere la pelle durante il giorno costava 14,95 ma io avevo lo sconto del 40% quindi l'ho pagato 8,97 poi matita eccola qua ve l'ho già recensita varie volte comunque è lo stilo waterproof matita occhi e stilo waterproof fantastica dura tantissimo soprattutto in estate o in primavera che mi lacrimino gli occhi questa tiene tranquillamente prezzo di listino 9,95 ma io l'ho presa in promozione e l'ho pagata 4,95 per arrivare al prezzo di 15 euro per avere i bollini sulla scheda sulla tessera ho preso anche il balsamo labbra che comunque sia io adoro questo è quello al cocco ma l'ho pagato a prezzo pieno 1,95 quindi totale 16,87 euro direi che ok allora questi erano tutti gli acquisti che ho fatto in un pomeriggio di shopping in centro fatemi sapere se vi è piaciuto questo video intanto questa tipologia di video ogni tanto quando la compro cose interessanti e poi se vi interessa che provo qualcuno di questi prodotti per primi campioncini, lo shampoo, alcune cose e spero che vi ho tenuto un po' compagnia fatemi sapere se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime accensioni e mi raccomando anche come sempre di cliccare sulla campanella così verete avvisate con una comodissima notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video ciao 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 ciao